Il Dottor Frankestein No, si pronuncia Igor Ma mi hanno detto che si dice Igor Beh, hanno sbagliato, non le pare? Sì, sì, ti ha mandato Herr Rosenthal, non è vero? Sì, mio nonno, vede, lavorava per suo nonno una volta ed io lavorerò per lei, solo che adesso la paga i tripla Che gentile Oh, scusami, non sapevo che... Non voglio metterti in imbarazzo, ma sono un chirurgo di una certa bravura Forse potrei aiutarti con quella gobba Gobba? Quale gobba? E questo è solo un pezzettino di quello che potrete ascoltare mercoledì Mercoledì, mercoledì 27 ottobre qui ai Piene Box Studios dove i Papu, insieme al Teatro alla Coq Assieme leggeremo... Cioè, bisogna tirarlo fuori un attimo prima del che diventi... Ecco, ecco, leggeremo la sceneggiatura integrale del Frankenstein Junior di Mel Brooks Ecco, c'è un motivo preciso, è una prima lettura, insomma, così fatta in pubblico poi E poi ce ne sarà una seconda, poi una terza Un attimo Un attimo Un attimo Un attimo Grazie a tutti.